Ciao amici, oggi è 14 marzo, ore 12, aderiamo ben volentieri a questa iniziativa di Flash Mob in ricordo delle persone che purtroppo non ce l'hanno fatta in questi giorni e soprattutto alla faccia di chi ancora crede che tutto ciò sia solo una banale influenza noi vogliamo invece portare il nostro abbraccio ideale, abbiamo anche le campane adesso in sottofondo a tutti quei medici, al personale infermieristico, alle OS, a tutte quelle persone che mettendo a repentaglio la loro vita stanno cercando di salvarne quante possibili a tutte queste persone, a tutti questi eroi che si sommano ovviamente anche agli altri di altri settori che sono tuttora aperti però oggi ci concentriamo sul personale medico, va il nostro enorme e mai sufficiente applauso siete i nostri eroi ciao